Anche quest'anno il Comune di Pordenone approfitta dell'estate per effettuare riqualificazioni e sistemazioni di diverse scuole di propria competenza, tra queste la storica Gabelli, dove è in corso l'adeguamento sismico. Gli operai, che hanno ricevuto la visita del Sindaco Ciriani, stanno lavorando nei sotterranei e nel sottotetto dell'edificio. Insieme al Sessore De Bortoli, insieme al nostro funzionario, l'archito del Mestre, abbiamo messo in campo una progettazione, e in questo caso anche i lavori che stanno producendo speditamente per assicurare alle famiglie e ai ragazzi che frequentano questa scuola di essere totalmente sicuri in caso di un sisma. Speriamo che non debba mai servire, ma quella della messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici è una partita che progressivamente stiamo giocando. Da un lato funzionalità, tecnologie, banda larga, pitturare le scuole, nuovi arredi, realizzare nuovi edifici. Dall'altro però, visto che sono polmoni fondamentali per accogliere i bambini, anche queste opere, che magari sono esteticamente invisibili, ma sono funzionalmente indispensabili. Walter De Bortoli, anche quest'estate interventi di riqualificazione in diverse scuole di competenza del Comune. Sappiamo perfettamente, e penso che i cittadini di Polderone abbiano recepito, che questa amministrazione ha riservato una grande e particolare attenzione per quanto riguarda tutte le nostre strutture scolastiche della città. Questo prima di tutto per rigenerarle, per metterle in sicurezza e per dare un buon servizio. Proseguono inoltre gli importanti lavori alla 4 novembre, mentre è l'imminente avvio la realizzazione del nuovo parcheggio per il polo scolastico di Via Vesalio.